Ci vuole coraggio per decidere di mollare tutto e dare l'assalto a un paese vecchio e ammuffito. Ci vuole coraggio soprattutto per decidere di farlo armati di apriscatole. Non un mitra, non un lanciafiamme, non una spada, un apriscatole, l'arma di quelli spinti dalle più buone intenzioni. Convinti che per fare politica a Roma cinque giorni alla settimana bastassero poco più di duemila euro e tutto il resto andasse restituito. Sicuri che il ricambio fosse una cosa indispensabile, e quindi due mandati al massimo, con un innovativo programma di sviluppo basato sulla decrescita, cioè andare indietro. Ci vuole coraggio per ammettere di avere preso non una, ma una serie di cantonate. E infatti, una volta entrati in Parlamento, con l'apriscatole hanno scoperto che dentro le scatole non c'era assolutamente nulla, perché questo è diventato da tempo un paese basato sul debito, non sul lavoro. Le rendicontazioni e le restituzioni sono finite, oramai da tempo, e meno male, perché così è finita anche l'umiliazione di dover raccattare gli scontrini da terra per fare numero. Sui due mandati è in corso una discussione, forse li levano. Per il resto, per avere un'idea, bastano le truffe sul reddito di cittadinanza e le Olimpiadi rifiutate a Roma. Ma il destino è crudele ed esige fino in fondo la sua vendetta. Così oggi il ministro Stefano Patuanelli, del Movimento 5 Stelle, ha finalmente scoperto che tenere in piedi un partito in maniera seria costa dannatamente e quindi ha dichiarato che è giusto che il Movimento aderisca al 2 per 1000 riservato ai partiti politici. Ci vuole coraggio per riconoscere tutto questo. Attenti però, perché tra poco rischiate, andando avanti così, di doverci parlare di Bibiano. Senza ricevuta di ritorno.